Siamo un po' di corsa quindi ci sbaglieremo. Oggi si parla di leadership. Molto spesso, soprattutto in Italia, si confonde la leadership con il comando e con un carattere di un certo tipo. Quindi il padre padrone, l'uomo che comanda battendo i pugni sul tavolo. Nel calcio si dice spesso quando una squadra non va bene ci vuole l'uomo che attacca i giocatori al muro. Eppure c'è un allenatore che è il più vincente di tutti, che è l'esatto opposto, che è un leader calmo. Parliamo di Carlo Ancelotti e Carlo Ancelotti ha spiegato in quattro punti essenziali quali sono i suoi segreti di quando allena. Per esempio, adesso lo possiamo vedere anche in grafica, lui parte con il managing up. Che cos'è il managing up? Arrivare in un club, conoscerne cultura, storia e soprattutto aver ben chiare quelle che sono le gerarchie del club e non sovrapporre mai i ruoli. Quindi avere un rapporto con il direttore sportivo, con il direttore generale, con la presidenza, sempre mantenendolo fisso, non confondendo mai i ruoli perché altrimenti questo crea confusione. Il secondo punto è la cultura. L'allenatore, dice Carlo Ancelotti, dura mediamente un anno e mezzo in un club ed è impensabile che possa cambiare in poco tempo la cultura di una squadra. Ci si riesce rarissime volte, coloro che più ci si impegnano falliscono clamorosamente. Quindi è utile per un club, per un allenatore che va in un club diverso, avere sempre all'interno dello staff una o più persone che sono elementi di storia di quel club e soprattutto non di averli per far contenti la piazza, ma di averli perché realmente convinti che possono arricchire il lavoro dell'allenatore e starli a sentire. Il terzo punto è il riconoscimento e la valorizzazione dei giocatori. I leader all'interno di un gruppo non sono sempre quelli più forti, ma possono essere anche dei leader carismatici, dei leader silenziosi e lasciare il loro pieno modo di farsi riconoscere come tali e l'allenatore deve riconoscerli come tali. E poi il quarto punto, l'assoluto ha comunque rispetto delle regole, non ci deve essere mancanza di rispetto neanche nei confronti del membro del proprio staff. E poi un punto essenziale, che è caratteristica di un buon leader in qualsiasi contesto, non solo calcistico, anche lavorativo, il leader bravo è colui che riesce anche a essere un punto di riferimento non solo lavorativo per il proprio dipendente. Ibrahimovic stesso ha detto di Carlo Ancelotti che Carlo Ancelotti è una persona che se avevo bisogno di un consiglio anche al di fuori del campo, anche su mia moglie, potevo chiedergli questo consiglio. Ed è per questo, anche se Carlo Ancelotti è uno che alza la voce raramente, me lo faceva apprezzare. Questo è un concetto di leader che per esempio in Italia si conosce molto poco, ma soprattutto all'interno delle aziende sarebbe importante avere perché in questo modo, e Carlo Ancelotti lo dimostra, si possono valorizzare al massimo i talenti che si hanno a disposizione.